Ciao a tutti, in questo video vedremo alcune varianti per l'allungamento del muscolo iliopsoas, un muscolo della coscia che interviene spesso quando si fanno esercizi, per esempio per gli addominali. Michela in piedi, appoggiata, attaccata a un sostegno, la gamba sinistra si flette a livello del ginocchio, il tallone del piede sinistro si avvicina al gluteo, da qui si va ad estendere la coscia rispetto all'anca per aumentare la tensione sui muscoli flesso-estensori della gamba, che sono appunto il retto femorale e l'iliopsoas. Si mantiene la posizione per inizialmente una trentina di secondi per poi arrivare al minuto per questo esercizio. In questa variante il ginocchio è in appoggio su una panca, di nuovo il tallone, questa volta della gamba a destra, si avvicina al gluteo, Michela si appoggia con la mano sinistra alla panca e porta il peso in avanti. Il ginocchio della gamba sinistra si flette ad accompagnare questo movimento e la gamba a destra si estende leggermente rispetto all'anca. Anche qui mantenimento dell'allungamento settoriale per circa un minuto. Attenzione a non tirare troppo con la mano destra, mantenere la posizione gradualmente. In questa posizione, sul lettino, rialzati, il sacco è praticamente tangente al bordo del lettino, una gamba viene su flessa a livello del ginocchio e si avvicina al torace andando a formare un angolo di 135 gradi più o meno e l'altra gamba è penzoloni, quindi diciamo che qui agisce come carico la gravità. Questo è un esercizio che in determinati casi può essere accompagnato, aiutato da un operatore che va a tenere la posizione corretta per un corretto allungamento. Anche qui questa è una posizione che inizialmente si comincia con una trentina di secondi per poi arrivare all'incirca al minuto di mantenimento dell'esercizio. Grazie a tutti per l'attenzione, se volete vedere altri due esercizi di ginnastica posturale non vi resta che cliccare sulle immagini che vedete visualizzate. Grazie e ai prossimi video. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.